Pallannuoto Andri Bittazze, centro-boda dell'Ortigia, sospensione in via cautelare per antidoping. Il circolo con attire Ortigia comunica di aver ricevuto dal Tribunale Nazionale antidoping il provvedimento di sospensione in via cautelare dell'atleta Andri Bittazze in quanto risultato positivo alla Clostable Metabolita, sostanza vietata e inserita nella lista vada dopo il controllo antidoping effettuato al termine della gara di Serie A1 contro il Brescia il 27 ottobre scorso. Bittazze, ragazzo pulito e onesto, la cui buona fede non è in discussione, avrebbe applicato una pomata, un farmaco da banco per curare un problema dermatologico commettendo la leggerezza di non consultare né informare lo staff medico della società. L'Ortigia, che naturalmente non potrà impiegare Bittazze in attesa delle decisioni degli organi competenti, si augura che il giocatore possa chiarire la situazione con le istituzioni antidoping e tornare presto all'attività agonistica.